ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come lorenzo licitra e gabriele rossi volano via dall'italia si regalano un romantico weekend all'estero i due innamorati si divertono tra aperitivi cene concerti classici e condividono tutto sul social nelle loro ig stories l'ex vincitore di x factor 32 n l'attore ballerino coreografo e produttore 34 n ex gf no vip sono una coppia da circa tre anni e stato rossi a dicembre del 2021 a venire allo scoperto con la propria relazione sentimentale ospite di oggi è un altro giorno in tv aveva detto stiamo insieme da due anni quasi viviamo insieme quando gli era stato chiesto come fosse iniziata la storia tra lui e lorenzo gabriele aveva chiarito io gli scrissi un messaggio proprio quando vinse x factor dicendogli tipo mi raccomando di non smettere mai di cantare era bravissimo non c'era nessuna finalità di approccio poi è capitato di prendere un caffè poi un altro l'amore non si esaurisce licitra e rossi sono più felici che mai la vacanza a due li mostra complici e uniti in perfetta sintonia alloggiano in una lussuosa suite di un hotel e brindano con lo champagne lorenzo festeggia il ritrovato successo con elia lo il brano in cui duetta con angun che segna il suo ritorno sul mercato musicale grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video